buonasera parliamo di un tema di etica esattamente di morale sessuale siamo arrivati all'ultima lezione inerente alla morale sessuale cattolica nelle lezioni precedenti abbiamo già visto i primi sette capitoli di questa presentazione oggi parleremo invece del capitolo numero otto cioè di contraccettione e metodi naturali ora stavo leggendo un testo su questo argomento ho trovato questo brano che vi leggo e capirete il perché della scritta che state vedendo in questo libro c'era scritto l'autore scrive sorprendente ma per questo più allarmante è il fatto che continuano a esserci minorenni che ricorrono all'aborto nel caso di una gravidanza indesiderata le quali dichiarano di non aver saputo che andando a letto con qualcuno potessero rimanere incinte e quest'autore aggiunge l'educazione degli adolescenti non funziona se ci fosse un'educazione adeguata molte gravidanze non volute e quindi molti aborti potrebbero essere evitati ecco il perché di quella scritta attenzione ragazze se avete un rapporto sessuale potete rimanere incinte qui molte cose che dirò già le sapete ma devo dirle lo stesso chiaramente in modo sintetico questa è la vagina questo è il collo dell'utero questo è l'utero ecco il la gravidanza si sviluppa qui cioè l'embrione si annida nelle pareti dell'utero qui e inizia a crescere 5 sono le tube di falloppio uno sono le ovaie guardate questa immagine se una donna ha un rapporto intimo lo sperma contiene spermatozoi gli spermatozoi risalgono nella vagina nell'utero e se incontrano un'ovocita avviene la fecondazione il concepimento la sopravvivenza degli spermatozoi nelle tube può arrivare anche fino a quattro giorni mentre quella dell'ovocita non supera le 24 ore cioè due informazioni tecniche che possono aiutarci a capire ed essere utili l'ovocita una donna una volta al mese rilascia un'ovocita quell'ovocita sopravvive 24 ore dopodiché muore e viene espulso se in queste 24 ore l'ovocita incontra uno spermatozoi allora può avvenire la fecondazione altrimenti no qui ho messo alcuni tempi tecnici che andiamo a leggere insieme 90 secondi circa dopo il rapporto gli spermatozoi giungono a livello della cervice uterina qui l'ascesa degli spermatozoi viene favorita dalla spinta delle contrazioni della muscolatura liscia uterina generate dal coito femminile e poi dalle correnti provocate dal battito delle cellule ciliate delle pareti tubariche cioè come fanno gli spermatozoi a muoversi a risalire uno sono aiutati dal dal movimento dalle contrazioni del coito femminile due da una specie di chiamiamola corrente all'interno della vagina dell'utero 5 minuti circa dopo il rapporto gli spermatozoi giungono nelle tube il loro spostamento avviene a una velocità di circa 2-3 mm al minuto per un percorso totale di 100-150 mm un'ora circa dopo il rapporto gli spermatozoi si trovano nell'ampolla della tuba di falloppio dove in genere si trova l'ovocita espulso dall'ovaio così avviene il concepimento dopo questa estrema sintesi andiamo un po' a vedere un po' i metodi contraccettivi metodi contraccettivi o anticoncezionali semplice metodi che impediscono il concepimento metodi che impediscono cioè l'incontro tra spermatozoi e ovocita quali sono? il condo, chiamato anche preservativo o profilattico la pillola anticoncezionale e tanti altri ora bisogna distinguere i metodi contraccettivi dai metodi abortivi qui la faccenda si complica perché? perché noi abbiamo visto che non per tutti l'embrione è un essere umano dal concepimento allora metodo contraccettivo è un metodo che impedisce la fecondazione cioè l'incontro tra spermatozoi e ovocita metodo abortivo invece è un metodo che agisce dopo il concepimento quando l'embrione cioè è già costituito ma in effetti allora questa qui c'è scritto metodi abortivi spirale pillola del giorno dopo pillola di cinque giorni dopo pillola RU486 qui io vado a seguire diciamo la classificazione della chiesa cattolica cioè per la chiesa cattolica la spirale è un metodo abortivo la pillola del giorno dopo può provocare aborto così come la pillola di cinque giorni dopo e la pillola RU486 è un metodo abortivo devo specificare che invece la spirale la pillola del giorno dopo e la pillola di cinque giorni dopo per alcuni non sono metodi abortivi questi tre per la chiesa cattolica sono metodi abortivi perché secondo la chiesa cattolica l'embrione è una persona fin dal concepimento quindi qualsiasi metodo che sopprime l'embrione è un metodo abortivo invece secondo altre visioni l'embrione è una persona soltanto a partire dal dopo alcuni giorni dal concepimento questa immagine sintetizza un po' i metodi contraccettivi di barriera più diffusi preservativo eccetera invece quest'altra immagine si riferisce ai più diffusi metodi contraccettivi ormonali la pillola estroprogestinica cioè la normale pillola anticoncezionale e altri metodi ora bisogna ricordare che gli esperti ci dicono che nessun metodo contraccettivo al di fuori dell'astinenza offre una protezione totale da gravidanze indesiderate né tantomeno da malattie sessualmente trasmissibili cioè non esiste nessun metodo contraccettivo che al 100% evita una gravidanza indesiderata che al 100% è efficace contro le malattie sessualmente trasmissibili vediamo adesso alcuni falsi miti sulla contraccettione cioè alcune affermazioni che in realtà sono false che però circolano come vere la prima una donna non può rimanere incinta la prima volta che ha un rapporto intimo falso le possibilità che ha una donna di rimanere incinta sono sempre le stesse circa 1 su 20 per un rapporto casuale anche se sono alla loro prima volta 2 non si rimane incinta se si urina subito dopo un rapporto sessuale falso lavarsi o urinare dopo un rapporto non blocca lo sperma già entrato nell'utero attraverso la cervice 3 fare una lavanda un bagno una doccia può prevenire la gravidanza falso la somministrazione di lavande vaginali interne non è un metodo contraccettivo efficace perché è impossibile fare una lavanda abbastanza velocemente da impedire allo sperma di raggiungere l'ovulo allo stesso modo spray ed eduranti vaginali non hanno azione contraccettiva anche fare un bagno o una doccia subito dopo il rapporto non laverà via lo sperma 4 se il sesso viene praticato in acqua non si corre il rischio di rimanere incinta falso il concepimento può senz'altro avvenire anche in una vasca in piscina o al mare un rapporto sessuale in acqua non garantisce alcuna protezione anticoncezionale perché lo sperma viene iaculato nella vagina durante un rapporto con penetrazione a prescindere dall'ambiente esterno c'è invece chi si preoccupa di rimanere incinta per il solo fatto di nuotare in una piscina in cui qualcuno abbia iaculato anche questo non è possibile lo sperma non può viaggiare dall'acqua alla vagina e causare una gravidanza 5 una ragazza non può rimanere incinta se il maschio eiacula fuori falso questo è un grande mito il coito di interrotto non è affidabile e vi sono varie ragioni a dimostrarlo una volta che il maschio viene stimolato espelle del liquido di pre-eiaculazione che potrebbe contenere spermatozoi inoltre vi è il rischio di non riuscire ad estrarre il pene in tempo utile perché in quel momento può essere difficile mantenere il controllo anche eiaculando al di fuori della vagina lo sperma è in grado di imboccare la strada corretta se il seme si trova sui genitali esterni questo significa che la gravidanza può verificarsi anche senza che ci sia una penetrazione se l'uomo eiacula sopra o vicino alla vagina 6 una donna non può rimanere incinta se fa sesso durante le mestruazioni falso anche se spesso il periodo delle mestruazioni non è fertile questo non è vero per tutte le donne e soprattutto per tutti i cicli ogni donna può andare incontro a cicli anomali ed imprevisti e questo significa che potenzialmente anche i giorni durante il quale si manifesta il flusso mestruale potrebbero essere fertili 7 va bene usare più volte lo stesso preservativo falso il singolo preservativo protegge dal rischio di gravidanza un unico rapporto sessuale anche in assenza di eiaculazione il preservativo non dovrà essere riutilizzato perché potrebbe comunque essersi indebolito con il primo uso e ha maggiori probabilità di rompersi 8 due preservativi proteggono meglio di uno falso in passato si riteneva che indossare due preservativi fosse più sicuro che usarne uno solo ma non è così l'utilizzo di due preservativi uno sull'altro aumenta il rischio di rottura o che si sfili riducendone quindi di fatto l'efficacia 9 la donna deve sospendere la pillola parliamo della normale pillola anticoncezionale ogni paio d'anni falso non c'è nessun motivo medico per sospendere la pillola la pillola può essere usata continuativamente per cinque dieci o vent'anni senza alcuna interruzione 10 dopo il parto la donna non può rimanere incinta prima di aver riavuto le prime mestruazioni falso una donna può rimanere incinta dopo il parto anche se non ha ancora riavuto le mestruazioni in molte donne l'ovulazione precede la comparsa del ciclo se il rapporto sessuale avviene in concomitanza con l'ovulazione la donna potrà rimanere incinta 11 una donna che sta ancora allattando non può rimanere incinta falso l'allattamento riduce le probabilità di gravidanza ma solo nelle donne che allattano in modo esclusivo e comunque non escludono al 100% la possibilità di ovulazione 12 utilizzare la pellicola trasparente o un palloncino se non si trova un preservativo falso la pellicola trasparente non è un sostituto del preservativo e neanche un palloncino e mai utilizzare il dentifricio al posto dello spermicida infatti non uccide gli spermatozoi come molti credono 13 non si rimarrà incinta se si saltella su e giù o si mettono dei semi nella vagina ci sono molte persone che credono che tossire starnutire saltellare su e giù dopo aver fatto sesso possa togliere lo sperma dal luogo in cui si trova tutti questi sono falsi metodi gli spermatozoi sono troppo veloci e troppo piccoli per ognuno di questi metodi perché possano funzionare 14 fare sesso stando in piedi funziona come contraccettivo ancora falso 15 se la donna non ha l'orgasmo non può rimanere incinta falso la gravidanza avviene quando uno spermatozoo feconda un'ovocita femminile mentre è necessario che l'uomo aiacoli per emettere lo sperma l'orgasmo femminile non è necessario ai fini di una gravidanza una donna in età fertile rilascia un'ovocita al mese come parte del proprio normale ciclo mestruale quindi questo avviene che la donna abbia o meno rapporti sessuali o orgasmi apriamo una piccola parentesi che riguarda il discorso di come si trasmette l'HIV l'HIV si può trasmettere nei seguenti modi 1 mediante trasfusioni di sangue o di emoderivati derivati del sangue privi di globuli rossi come plasma o piastrine infetti con l'inoculazione di piccole quantità di sangue contaminato attraverso lo scambio di siringhe tra tossicodipendenti o per puntura accidentale con aghi o strumenti infetti sporchi di sangue rasoi lamette pinzette forbicine eccetera 2 l'HIV si può trasmettere attraverso rapporti sessuali attenzione sia rapporti sessuali omosessuali che rapporti sessuali eterosessuali 3 l'HIV si può trasmettere in questo modo una donna HIV positiva può trasmettere l'infezione al figlio durante la gravidanza cioè mediante il sangue che passa normalmente dalla madre al feto al momento del parto mediante le segrezioni vaginali e il sangue o dopo la nascita con l'allattamento al seno il virus è contenuto anche nel latte materno parliamo parliamo adesso del coito interrotto il coito interrotto non è un metodo anticoncezionale ma allora che cos'è il coito interrotto consiste nell'interruzione del rapporto sessuale qualche qualche istante prima dell'ejaculazione il ritiro del pene dalla vagina poco prima dell'amplesso durante questi istanti l'uomo deve preoccuparsi di dirigere l'ejaculato lontano dai genitali esterni della donna perché alcuni utilizzano il coito interrotto alcuni uomini e donne affermano che il preservativo in quanto è una barriera che impedisce il contatto tra pelle e pelle possa diminuire il piacere quindi preferiscono il coito interrotto due il coito interrotto chiaramente non prevede l'acquisto di un prodotto quindi a costo zero e non bisogna imparare ad usare alcunché tre beh chiaro non ha nessun effetto collaterale e non provoca nessuna allergia vediamo adesso perché il coito interrotto non è sicuro 1 il coito interrotto si rivela una metodica sessuale altamente rischiosa fallisce nel 18 22 per cento dei casi per il maschio si richiede un'ottima padronanza del proprio corpo allo scopo di interrompere il rapporto al momento opportuno non è raro che prima dell'eiaculazione vera e propria una piccola quantità di liquido seminale possa inconsapevolmente fuoriuscire dunque raggiungere e fecondare l'ovulo inoltre dopo un primo rapporto sessuale in cui viene eseguita la pratica del coito interrotto è possibile che alcuni spermatozoi rimangano incastonati nell'uretra nell'organo sessuale maschile in assenza di un'igiene intima accurata un contatto sessuale immediatamente successivo può esporre ancor più la partner al rischio di gravidanza quindi quali sono i rischi del coito interrotto una gravidanza indesiderata il coito interrotto non protegge dalle malattie sessualmente trasmesse stress psicologico e paura di essere incinta cioè avere un rapporto intimo senza precauzioni senza anticoncezionali può far sorgere nei giorni nelle settimane seguenti uno stress dovuto alla paura che la donna possa essere rimasta incinta gli ultimi due punti non non sono in grado di spiegarveli di spiegarveli li leggete da soli gli svantaggi del coito interrotto interessante perché per molte coppie il coito interrotto interferisce con il piacere e l'intensità dell'amplesso dato che il rapporto deve essere arrestato bruscamente dall'uomo per la medesima ragione il coito interrotto può essere percepito come frustrante e poco gradito sia dalla donna che dall'uomo stesso è chiaro che per il maschio il coito interrotto richiede un'ottima padronanza del proprio corpo allo scopo di interrompere il rapporto al momento opportuno a questo punto vediamo un po' il preservativo chiamato anche condom o profilattico perché in genere si usa il preservativo beh tutela da gravidanze indesiderate protegge dalle malattie sessualmente trasmesse qual è la sua efficacia contraccettiva l'efficacia del preservativo dipende essenzialmente dalla corretta modalità d'utilizzo nella pratica il preservativo ha successo solo nell'84 85 per cento dei casi abbiamo già visto che non c'è nessun metodo contraccettivo efficace al 100% è sbagliato indossarlo solo verso la fine del rapporto bisogna indossarlo dall'inizio a volte per aumentarne l'efficacia anticoncezionale è possibile associare preservativo uno spermicida specifico cioè un contraccettivo di tipo chimico apriamo una breve parentesi che cos'è uno spermicida è una sostanza chimica in grado di immobilizzare ad uccidere gli spermatozoi prima del loro ingresso nell'utero attenzione utilizzato da solo lo spermicida non può essere considerato un metodo anticoncezionale completamente sicuro infatti fallisce nel 29 per cento dei casi lo spermicida può essere utilizzato insieme ad altri metodi contraccettivi come il preservativo o il diaframma ora è chiaro che non sono un medico mi limito a leggere insieme a voi queste cose svantaggi di uno spermicida può irritare o perfino danneggiare le pareti vaginali e rettali nella donna l'utilizzo frequente ed abitudinario dello spermicida aumenta il rischio di infezioni alle vie urinarie vaginosi batterica infezioni da lieviti ed infezioni batteriche può incrementare il rischio di contrarre malattie sessualmente trasmesse non offre alcuna protezione dalle malattie venere come l'AIDS può creare reazioni allergiche cutanee in entrambi i partner l'efficacia dello spermicida si protrae solamente per 60 minuti a partire dal momento dell'inserimento applicazione in vagina può emanare un odore sgradevole continuiamo a parlare del preservativo alcune semplici avvertenze e raccomandazioni controllare la data di scadenza anche i preservativi ricordiamo sono anch'essi dispositivi medici hanno una scadenza che deve essere sempre controllata prima dell'acquisto e soprattutto prima dell'utilizzo assicurarsi che le dimensioni del profilattico siano adeguate a quelle del pene infatti un preservativo troppo aderente e stretto rischia di rompersi e srotolarsi un condom troppo grande può invece sfilarsi più facilmente ogni tipo di preservativo è monouso chiaro quindi non bisogna riutilizzarlo per un secondo rapporto conservare il prodotto in un ambiente fresco e asciutto il preservativo teme infatti il calore prima di indossare il preservativo assicurarsi che la guaina impermeabile sia perfettamente integra eccetera andiamo a vedere un altro metodo anticoncezionale la pillola chiamata anche pillola contraccettiva o pillola estroprogestinica che cos'è? è un prodotto farmacologico a contenuto ormonale a somministrazione orale riservato alle donne questa è la normale pillola anticoncezionale quindi è un farmaco ci sono degli ormoni attualmente esistono due tipi di pillola anticoncezionale la pillola combinata e la mini pillola noi qui semplificheremo il discorso la pillola anticoncezionale è diversa dalla cosiddetta pillola del giorno dopo sono due farmaci diversi una cosa è la pillola anticoncezionale un'altra cosa è la pillola del giorno dopo qui stiamo parlando della pillola anticoncezionale come si usa in linea generale l'utilizzo della pillola anticoncezionale combinata prevede un'assunzione giornaliera del prodotto per 21 giorni consecutivi seguiti da 7 giorni di pausa durante la settimana di sospensione la donna va incontro a perdite di sangue paragonabili alle mestruazioni seppur in genere meno abbondanti come funziona la pillola combinata blocca l'ovulazione in particolare sopprime lo sviluppo del follicolo ovarico previene il rilascio della cellula uovo matura nelle tube di falloppio addensa il muco della cervice uterina rendendolo meno idoneo al passaggio degli spermatozoi altera l'endometrio uterino in modo tale da sfavorire l'impianto dell'ovulo a livello dell'utero interferisce con le contrazioni muscolari coordinate della cervice dell'utero e delle tube di falloppio se volete una semplificazione la pillola anticoncezionale abbiamo detto è un farmaco questo farmaco va a bloccare l'ovulazione cioè blocca nella donna il rilascio dell'ovocita niente ovocita vuol dire che gli spermatozoi non possono provocare una fecondazione e quindi nessuna gravidanza efficacia della pillola anticoncezionale se assunta correttamente la pillola anticoncezionale combinata ha un'efficacia pari al 99% qualora l'utente la donna dovesse dimenticare di assumerla per un giorno va assunta tutti i giorni una pillola al giorno qualora la donna dovesse dimenticare di assumerla per un giorno la suddetta percentuale scende al 91% quindi comunque un valore ancora estremamente alto andiamo a vedere i potenziali effetti indesiderati della pillola anticoncezionale essendo un farmaco ha anche altri effetti sul fatto se la pillola anticoncezionale causi un aumento del peso corporeo qui c'è un grande dibattito alcuni dicono di sì alcuni dicono di no aumento della pressione arteriosa perdite di sangue intermestruali e perdite vaginali depressione sbalzi d'umore e o irritabilità aumento del rischio di fenomeni di trombosi semplificando aumento del rischio di tumore al seno tumore al fegato e tumore della cervice uterina riduzione o perdita della fertilità è un effetto collaterale raro maggiore peluria corporea eccessiva secrezione sebacea cutanea e perdita di capelli sono più rari se il preparato contiene desogestrel o gestotene aumento dei livelli di lipidi nel sangue tensione e o dolore al seno con aumento delle sue dimensioni aumento della pigmentazione cutanea eccessiva secchezza cutanea e o delle mucose orali vaginali e o oculari calo della libido vuol dire che come effetto indesiderato a volte la pillola anticocezionale provoca una diminuzione del desiderio sessuale nausea vomito vampate di calore e o vertigini amenorrea cioè mancanza di mestruazioni calcoli alla cistifellea quale metodo anticoncezionale gli italiani hanno usato durante il primo rapporto intimo vedete in alto a destra vi ho già parlato di questo testo intitolato la sessualità degli italiani è un'indagine statistica hanno posto delle domande alle persone residenti in Italia per vedere appunto il comportamento sessuale degli italiani guardiamo insieme c'è scritto percentuale di residenti in Italia nel 2006 quindi la statistica è stata fatta nel 2006 che hanno dichiarato di aver fatto qualcosa al primo rapporto sessuale per evitare malattie o concepimenti quindi andiamo a vedere nel 2006 hanno chiesto a uomini e donne quale metodo contraccettivo avete usato durante il primo rapporto sessuale qui vedete gli anni di nascita delle persone intervistate quindi le persone più anziane e le persone più giovani allora andiamo a vedere gli uomini bene quanti hanno usato il coito interrotto durante il primo rapporto sessuale vedete che nel corso degli anni il ricorso al coito interrotto è diminuito cioè i giovani ricorrono meno al coito interrotto è in percentuale degli anziani condom invece il ricorso al condom è aumentato la pillola il ricorso alla pillola è aumentato andiamo a vedere una visione generale andiamo a prendere la generazione più giovane qual è il metodo anticoncezionale più usato durante il primo rapporto sessuale il condom poi abbiamo il codio interrotto e poi abbiamo la pillola vediamo ora le donne coito interrotto anche in questo caso diminuisce il ricorso al coito interrotto aumenta il ricorso al condom aumenta il ricorso alla pillola quindi tra le donne la generazione più giovane la maggioranza durante il primo rapporto sessuale ha usato il condom poi il coito interrotto e poi la pillola andiamo a vedere adesso quale metodo contraccettivo usano generalmente gli italiani allora la statistica è stata fatta nel 2006 gli intervistati hanno risposto alla domanda quale metodo contraccettivo usate di solito uomini donne uomini tra i 18 e 49 anni stessa cosa per le donne andiamo a vedere tra gli uomini il metodo contraccettivo più diffuso eccolo qui è il condom in seconda posizione la pillola poi abbiamo nessun metodo e il coito interrotto tra le donne il metodo contraccettivo più utilizzato è la pillola poi il condom poi il codio interrotto perché usare il preservativo o un altro metodo contraccettivo è un peccato grave per la morale cattolica affrontiamo direttamente questa domanda eh sì per la chiesa cattolica per la morale cattolica usare un qualsiasi metodo contraccettivo è un peccato grave questa è un po' la regola innanzitutto spiego il perché cioè quale ragionamento c'è dietro questa conclusione la morale cattolica dice l'atto sessuale ha due significati uno due persone si uniscono sessualmente per approfondire ed esprimere il proprio amore vedete in blu c'è scritto mi unisco a te per esprimere ed approfondire il nostro amore questo sarebbe secondo la morale cattolica il primo significato dell'atto sessuale cioè perché si fa l'amore sotto c'è scritto mi unisco a te per trasmettere la vita cioè l'altro significato dell'atto sessuale è quello di trasmettere la vita il ragionamento della morale cattolica e questi due significati sono inscindibili cioè non si possono separare cioè devono essere sempre presenti in un atto sessuale infatti la chiesa cattolica dice che ogni unione intima fra gli sposi deve rispettare i due significati dell'atto sessuale se due sposi si uniscono senza rispettarli entrambi contraddicono la natura dell'uomo e della donna e vanno contro il piano di Dio e la sua volontà cioè la chiesa cattolica fa questo ragionamento Dio ha voluto che nell'atto sessuale nel comportamento di due persone che si uniscono beh ci siano due motivazioni due significati esprimere amore e trasmettere la vita ora il ragionamento cattolico è se Dio ha voluto che quel gesto quel comportamento quell'atto abbia questi due significati non si possono non se ne può togliere uno infatti secondo il ragionamento della morale cattolica se io uso il preservativo sto arbitrariamente togliendo il significato procreativo la morale cattolica dice inoltre che quando due sposi per una migliore armonia e quiete della famiglia in migliori condizioni per l'educazione dei figli già nati non vogliono avere più figli possono continuare ad avere rapporti intimi ma solo nel rispetto dell'ordine da Dio stabilito cioè possono continuare a fare l'amore ma non utilizzando metodi contraccettivi come il preservativo o la pillola ma attraverso il ricorso ai cosiddetti metodi naturali cioè attraverso il ricorso ai periodi infecondi della donna lo ritico la morale cattolica dice questo se due persone sposate un uomo e una donna vogliono avere rapporti intimi perché si amano quindi per esprimere il loro amore è il significato numero uno ma non vogliono trasmettere la vita quindi non c'è il significato numero due possono continuare a fare l'amore uno ci devono essere delle motivazioni serie per non volere altri figli due non devono usare i metodi contraccettivi sarebbe peccato ma devono fare l'amore nei periodi in cui la donna non è fertile i cosiddetti metodi naturali volevo infatti parlare brevemente di un metodo naturale famoso in ambito cattolico si chiama metodo dell'ovulazione Billings il nome lo prende da una coppia di coniugi australiani i coniugi Billings marita e moglie che se ricordo bene negli anni sessanta misero appunto questo metodo vedete in basso appunto dei libri che spiegano questo metodo preciso che questo metodo è da usarsi unicamente dopo aver approfondito la sua conoscenza con un esperto cioè le coppie che utilizzano questo metodo non basta leggere un libretto bisogna fare un corso con un esperto e aggiungo che chiaramente è un metodo per persone sposate che cos'è questo metodo dell'ovulazione Billings è un metodo che permette alla donna di sapere in quali giorni del mese è feconda e in quali non è feconda ogni donna è in grado di riconoscere i giorni fecondi e i giorni non fecondi del suo ciclo mestruale attraverso l'osservazione del muco cervicale e delle sensazioni che esso determina nella donna allora questo metodo il metodo Billings è uno dei metodi chiamati naturali dice che vuol dire vuol dire che è un metodo attraverso il quale la donna senza usare nessun farmaco senza usare nessun oggetto semplicemente attraverso l'osservazione del proprio corpo e le sensazioni del proprio corpo riesce a capire se si trova in un giorno in cui è feconda o se invece si trova in un giorno in cui non è feconda qual è il ragionamento che c'è alla base in un mese ogni donna rilascia un ovocita quell'ovocita sopravvive soltanto alcune ore quindi se la donna ha un rapporto intimo nelle ore in cui l'ovocita è all'interno del suo corpo allora può rimanere incinta negli altri giorni gli spermatozoi non possono fecondare l'ovocita perché l'ovocita non c'è cerco in maniera semplice di spiegare come funziona questo metodo allora guardate un po' l'immagine all'interno dell'utero dove stanno le tre freccette bianche quello è l'utero all'interno dell'utero ogni volta che c'è che sta per avvenire l'ovulazione all'interno dell'utero ogni volta che sta per avvenire l'ovulazione cioè ogni volta che abbiamo detto una volta al mese l'ovaia rilascia un'ovocita prima del rilascio dell'ovocita si forma questo rivestimento bianco chiamato endometrio è una specie di rivestimento che deve accogliere poi l'embrione quindi nel momento in cui l'ovocita sta per essere rilasciato si chiama ovulazione non soltanto si forma questo rivestimento bianco chiamato endometrio ma si forma anche questo muco cervicale qual è il ragionamento che c'è dietro questo metodo ora se ogni volta che c'è l'ovulazione si forma questo muco beh se la donna capisce che c'è questo muco beh vuol dire che sta per avvenire l'ovulazione se il muco non c'è non c'è l'ovulazione e quindi la donna non può rimanere incinta quindi questo è un po' il segnale ok quindi siccome questo muco si forma ogni volta una volta ogni mese poco prima dell'ovulazione prima che l'ovaia rilascia un'ovulazione si forma questo muco la donna attraverso le sensazioni sa se il muco c'è o non c'è questa è una semplificazione il muco non c'è bene non sta per avvenire l'ovulazione lo ripeto e quindi la donna se ha un rapporto intimo non può rimanere incinta il muco c'è semplificando il muco c'è allora sta per avvenire l'ovulazione se la donna ha un rapporto intimo può rimanere incinta tra l'altro aggiungo semplicemente che questo muco vedete che all'inizio è più denso e addirittura non permette il passaggio degli spormatozoi dalla vagina all'utero poi piano piano diventa sempre più liquido e quindi gli spormatozoi possono passare facciamo un esempio allora guardate un po' questa immagine ammettiamo che una donna abbia un ciclo di 28 giorni allora guardiamo i colori questa donna ha 5 giorni di mestruazione il colore rosso indica i giorni delle mestruazioni poi il colore bianco indica nell'immagine i giorni in cui la donna è feconda quindi se questa donna ha un rapporto intimo in questi giorni può rimanere incinta i giorni di colore marrone mi sembra sia questi che questi sono giorni in cui la donna non può rimanere incinta quindi lei non è feconda in questi giorni perché qui sono colori bianchi il colore bianco e qui è marrone noi abbiamo detto che ecco guardate questo giorno il giorno con il triangolino noi abbiamo detto che una donna ha l'ovulazione una volta al mese cioè se la donna ha rilasciato l'ovocita in questo giorno e abbiamo detto che l'ovocita sopravvive mi sembra per 48 ore è chiaro che se la donna nei giorni che si trovano nelle vicinanze del giorno dell'ovulazione ha un rapporto la donna può rimanere incinta qui la donna non può rimanere incinta perché non c'è nessuna ovulazione la donna ha rilasciato l'ovocita qui semplificando qui l'ovocita ormai è già morto è già stato espulso in questa immagine vedete che in questo esempio una donna ha avuto questo ciclo di 28 giorni questo mese e qui abbiamo 5 giorni di mestruazioni 3 giorni non fecondi 8 fecondi e il resto non fecondi qual è il discorso? il discorso è che la durata di un ciclo mestruale cambia da donna a donna e anche per una stessa donna cambia da mese a mese infatti qui c'è un secondo esempio un'altra donna invece ha un ciclo diverso non sono più 5 giorni di mestruazione sono 4 non ci sono più 3 giorni non fecondi ce ne sono 7 quindi la disposizione dei giorni cambia un altro esempio ancora un'altra donna ha un ciclo più corto qui vedete che si passa addirittura dai giorni delle mestruazioni direttamente ai giorni fecondi voglio ricordare che tutti sapete che cos'è la mestruazione la mestruazione guardate le due immagini la mestruazione significa che non c'è nessuna gravidanza l'ovocita è arrivato nell'utero poi passa nella pagina e viene espulso insieme guardate le frecce al rivestimento chiamato endometrio abbiamo visto prima quindi la mestruazione non è altro che la donna che espelle l'ovocita e l'endometrio che si era formato per accogliere l'eventuale embrione quali sono i vantaggi secondo chi è favorevole a questo metodo le donne sviluppano una particolare sensibilità nei confronti del loro corpo gli uomini imparano a rispettare di più le mogli cioè qui il discorso è che chiaramente la coppia che utilizza questo metodo deve aspettare di avere un rapporto intimo nei giorni che ci siano i giorni in cui la donna non è feconda ecco perché gli uomini imparano a rispettare più le mogli i periodi di astinenza stimolano la fantasia a esprimere l'amore e la tenerezza in modo diverso dal rapporto sessuale e rafforzano la fedeltà coniugale e la gioia dell'attesa dell'amore sessuale l'astinenza periodica agisce d'antidoto contro la noia e la monotonia l'amore coniugale non è soggetto all'equilibrio ormonale dei partner ma all'amore del partner o della partner sintetizzando chi è favorevole a questo tipo di metodo dice il fatto che una coppia debba aspettare per fare per fare l'amore cioè debba aspettare che la donna sia nei giorni in cui non è feconda produce dei vantaggi produce il fatto che non si fa l'amore soltanto per una specie di istinto di desiderio superficiale si sviluppa il fatto che essere costretti ad aspettare fa sì che l'amore venga espresso in modo diverso fa sì che il fatto che tu aspetti combatta in qualche modo il pericolo di compiere quel gesto come una routine qui vediamo un po' i pareri contrari a questo metodo cioè le critiche a questo metodo qui ho scritto altre esperienze di codice ci sono coppie che cosa ne pensano del metodo dell'ovulazione Billings dicono noi non comprendiamo la differenza tra questo metodo e i metodi contraccettivi oppure dicono è un metodo troppo esigente devi aspettare che la donna sia in un giorno non fecondo allontanano dal partner obbediente alla chiesa e anche dalla chiesa cioè alcuni dicono bene ma se mia moglie vuole usare questi metodi perché è cattolica io no qui si creano dei problemi di coppia donne che non li possono usare perché il loro ciclo è irregolare donne le quali riferiscono che tramite l'osservazione del proprio corpo la spontaneità e la gioia sessuale scompaiono matrimoni in cui la fedeltà coniugale a causa dei periodi di astinenza richiesti è messa in pericolo matrimoni nei quali la vita sessuale è praticamente bloccata matrimoni che per questo vanno in frantumi quindi di fronte a questo metodo naturale il metodo di rivoluzione Billings abbiamo chi è favorevole chi è contrario generalmente la chiesa cattolica è un metodo che pubblicizza quanto dice che è moralmente lecito ora noi abbiamo terminato la trattazione di questo argomento la morale sessuale il mio intento era quello di suscitare una riflessione morale sulla sessualità le domande che in particolare mi interessavano erano uno qual è il significato dell'atto sessuale due quale comportamento sessuale è bene cioè mi mi porta alla felicità mi mi realizza e quale male e mi sono soffermato un po' a parlare di preservativi preservativo e pillola soprattutto per il fatto che le statistiche dicono che il numero di aborti potrebbe essere abbassato se i giovani sapessero utilizzare i metodi contraccettivi si 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 si